sono miei? sono tuoi? no li hanno mandati a me amore vabbè sono di tutti sono di tutti ok no sono miei sono tuoi? sì non lo so sembra una capsula del tempo invece è una cosa massaggiante sì e questo cos'è? ok andiamo a vedere grazie per la visione grazie per la visione